Una barzelletta alimentare da Giuseppe Castiglia per sito esaurito solo che non è proprio pollo buono buono eh Ma perchè che cosa c'ha? Insomma diciamo che io ce lo posso fare a 5 malire anziché 4.500 con le patatine Sono patatine sticchi? Sono sticchi però io ce lo devo dire che è giusto che lei lo sa Ma perchè che cosa c'ha questo pollo? Un pollo con l'AIDS Un pollo con l'AIDS? Ma io veramente non lo so Signorina che è buono eh Ma io devo dircelo a papà però prima Non ce lo deve dire io un pollo buono 5 malire No 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 è meglio che ce lo dico Ce lo faccio 4 malire con le patatine C'ha la l'AIDS ma è buono Va bene avanti me lo di Avanti ce lo ammoglio Va bene grazie signor Pollaro arrivederci Arrivederci Papà Papà ecco qui qua c'è il pollo e qua c'è il resto Tutto questo resto? Eh Ma quando te l'ha passato questo pollo? 4.000 aere Ma non ti avevo detto di comprare quello di 8.500 Sì sì ma questo però è speciale perchè questo c'ha l'AIDS Che cosa c'ha l'AIDS? L'AIDS Ma com'è che ti fai fottere sempre i soldi? Ma sei che un don d'era da domani? Cammina conmina Buongiorno Buongiorno Sono il papà della bambina Ah sì Effettivamente ci somiglia Ah lasciamo stare Senta ma che cos'è questo fatto del pollo con l'AIDS che è malato? Mi spiegasse No il pollo è buono diciamo che ha avuto questo momento di gioventù un poco particolare E adesso l'AIDS l'abbiamo dato in offerta speciale 4.000 lire con le patatine Siamo d'accordo ma io avevo mandato la bambina per quello di 8.500 Ebbè ma quello di 8.500 in quest'ora non ce n'è più Ci ha dato il pollo in offerta speciale Benissimo ma io quello di 4.000 in offerta speciale non lo voglio Ebbè io l'ho capito lei non lo voglio perché c'ha l'AIDS ma è buono Ti sta dicendo che io pollo con l'AIDS non lo voglio Ti sta dicendo che 4.000 lire con le patatine è un affare Forse non mi sono spiegato Pollo con l'AIDS non lo voglio Senta c'ha l'AIDS siamo d'accordo Ma lei se lo deve mangiare non è che ce lo deve mettere nel culo